SETA UNIVERSITO 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 Ci vediamo! Capite che ha fatto... Merda! E' un fucile. Quello ha un fucile. E' incredibile che sia vivo. Sembra che lei lo abbia lanciato da una finestra del quarto piano. Ed è sopravvissuto? Diamine, quel tizio ha dei santi in paradiso. L'asta era ben sorvegliata. Non dalla shoreline, non da noi. Dico solo che non dovremmo sottovalutare questa gente. Ma nemmeno lasciarci intimorire è più del dovuto. Attento, da quella parte. Sam. Sì. Vai. Sì. 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 Sì.